Ciao, ciao, ciao! Questo videogioco mi fa uscire fuori di... zucca! Eccomi, baby! Hai visto niente di più bello! Billy, il bello al tuo servizio! Non parlavo di te! Ma già che sei qui, aiutami a raccontare cosa c'è nel mitico mondo degli Strasspeed! Ok! 3, 2, 1... Parfitti! L'avresti mai detto che noi Strasspeed siamo anche degli attori da Oscar? Cerca il nostro fantastico film in DVD, 60 minuti di risate e colpi di scena! Parola di... pirata! E... di mozzo! Apposta per te nei pacchi doppi di merendine Kinder e Ferrero! E il divertimento non si ferma mai! Ad agosto gli Strasspeed ritornano a tutta forza! Noi personaggi diventiamo veri e sfrecciamo sulle nostre auto! Chi sarà il number one? Il numero uno? Velocità massima! Prova a starci dietro se ci riesci! All right! Siamo nelle merendine Kinder e Ferrero! E il motore rompa ancora! Se clicchi sul sito www.listraspeed.it Il divertimento è a Crazy World con gli Strasspeed! Oh yeah! Ehi ragazzi! Adesso ci salutiamo! Ma ricordate che ad Halloween ritorno da voi carica di snack! Ehi ragazzi!